A partire da oggi il Comune di Calatabiano rilascerà la carta di identità elettronica che potrà essere richiesta direttamente allo sportello comunale dei servizi demografici. La nuova carta di identità elettronica sostituisce integralmente il documento tradizionale cartaceo e in policarbonato ha le dimensioni di una carta di credito e dotata di particolari sistemi di sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, compresi gli elementi biometrici come le impronte digitali di una foto in bianco e nero stampata al laser che ne garantisce un'elevata resistenza alla contraffazione. È prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare al momento della richiesta il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte. Per la richiesta della carta di identità elettronica è necessario esibire una fotografia a colori in formato cartaceo o in formato JPG. Il codice fiscale tramite la tessera sanitaria è versare nelle casse dell'ente la somma di 22,21 euro. Beh, intanto un modo per allinearsi è quello che sono le direttive del Ministero degli Interni quindi avere una carta di identità ancora più sicura con una maggiore opportunità sarà aumentata la database di quello che questa carta può rappresentare ha le dimensioni di una carta di credito e di un policarbonato per avercela basta una sola sfota a colori e diciamo che voglio tranquillizzare comunque gli utenti cittadini che hanno già una carta di identità cartacea che comunque quello manterrà i suoi valori fino alla scadenza e poi ovviamente si deve necessariamente passare a questa ulteriore opportunità e soprattutto diciamo che la legge ci impone quindi la dotazione della carta di identità mi rende particolarmente orgoglioso perché è un ufficio che si innova, che si allinea a quelle che sono indicazioni che provengono dal governo centrale e soprattutto diciamo abbiamo questa opportunità di dare maggiore sicurezza ai nostri concittadini in caso di espadio perché hanno una carta di identità che difficilmente si può contraffare o si può manipolare come invece avviene con il materiale cartaceo quindi da questo punto di vista ci siamo allineati a questo decreto legislativo del Ministero 773 Il documento non sarà consegnato a vista dagli uffici demografici una volta allo sportello un operatore comunale acquisirà i dati su di una postazione collegata con il Centro Nazionale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno Terminate le operazioni al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che attesta l'avvenuta registrazione insieme alla prima metà del PIN e del PUC identificativo corrispondente alla carta di identità elettronica quest'ultima verrà poi emessa dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e recapitata direttamente al domicilio indicato dal cittadino entro sei giorni lavorativi Grazie